Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui. Il tema della ricetta di questa sera è il baccalà. Ci serviranno un'insalatina di asparagi, succo di peperoni e olive disidratate. Partiremo con il ricavare tre tranci di baccalà. Ok. Le andremo a calare nell'acqua, dove andremo a mettere semplicemente due spicchi d'aglio divisi e un po' d'erba al cicolino. Un goccio d'olio. Andremo a calare il baccalà. Il coperchio. Intanto procederemo ad assemblare il piatto. Per l'insalatina di asparagi basterà prendere gli asparagi, privarli della parte legnosa e verde e con il pelapatate fare delle listarelle. Sbordentarle per 30 secondi e passare subito nell'acqua e ghiaccio. Dopodiché le asciughiamo un pochettino e le mettiamo in un contenitore. Le condiamo sempre con un po' d'olio, poco pepe, un po' di sale e andremo a mischiare il frutto. Userò questo piatto a formare dei mucchietti. Mentre vi spiego il resto andiamo a girare il baccalà. La cottura sarà brevissima. Una volta formati i mucchietti, questo lo chiamo succo di peperoni perché è quasi a naturale, un leggero goccio d'olio. Il peperone lo mettete dentro. Appena cominciate a sentire il rumore che sta rosolando, aggiungete acqua. Lo fate cuocere per 3-4 minuti e dopo lo frullate. Se lo preferite più leggero potete privarlo della buccia, altrimenti lo lasciate e una volta frullato lo passate con un passino e la buccia rimarrà lì dentro. Una volta ottenuto il succo, quindi una crema abbastanza fluida, andrete ad aggiungere a crudo olio, sale, un poco poco di vaniglia e un po' di zucchero per renderlo più dolce. Le olive disidratate, basterà prendere le olive nere, le mettete nel microonde a 600 watt per circa 4 minuti, a seconda le toccate, al tatto, quando saranno ben secche, le tirate fuori e le andrete a tirare al cortello. Privatelo dell'erba cipollina, non servirà aggiungere sale, lo andrete a mettere sull'insalatina che avete messo prima. Una volta messo il baccalà sugli asparagi andrete al centro a calare il succo di peperoni. Succo perché? Perché non c'è nessun componente tipo panna, quindi ho preferito chiamarlo succo. Se volete sporcare leggermente anche il baccalà e dopo chiudiamo il piatto con le olive disidratate. A vostro piacimento potrete aggiungere sopra un goccetto d'olio, rigorosamente extravergine, e il piatto è pronto. Quindi baccalà in semivapore con insalatina di asparagi, succo di peperoni e olive disidratate. Lo chef Davide vi saluta, alla prossima videoricetta! Grazie a tutti!